Incontri, dibattiti, trasferti a Palermo, volantinaggio, referendum, soldi spesi e il sì dei rispettivi consigli comunali Gela, Niscemi, Piazza Merina, Licodio e Bea si staccano dalle rispettive ex province per approdare alla città metropolitana di Catania e al libero consorzio di Ragusa la volontà popolare e sovrana. Almeno così dovrebbe essere ed invece non lo è perché ieri alla prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana presieduta da Salvatore Cascio si è consumato un delitto perfetto. Tutto rimane com'è. Dalla serie abbiamo scherzato. I componenti della commissione, si tratta di 12 deputati, hanno detto no. Per l'esattezza due si sono espressi in maniera positiva si tratta dei Grellini, Francesco Cappello e Matteo Mangiacavallo. Due erano assenti e gli altri otto hanno negato l'emigrazione nell'area metropolitana etnea delle città che ne hanno fatto richiesta. Due sono del PDR, tre del PD, uno del PSI, uno dell'Udc e uno di Forza Italia. La prima commissione sottolinea che i referendum consultativi erano stati celebrati in base alla legge che prevedeva sei liberi consorsi comunali e tre città metropolitane. La legge però, su contestazioni del Consiglio dei Ministri, fu cambiata per adeguarsi alla riforma del Rio che prevede invece liberi consorsi comunali al posto delle province minori e le città metropolitane per Palermo, Catania e Messina. Per la prima commissione affari istituzionali il referendum, dunque, fanno riferimento ad una normativa che è stata già abolita. Inoltre la stessa commissione ieri ha ritenuto che non bastava la volontà popolare per cambiare provincia ma che serviva anche il quadro completo dei debiti e del personale che andrebbero caricati sulla città metropolitana mettendo a serio rischio l'esistenza di Caltanissetta ed Enna. Parabola significa che al momento attuale tutto rimane com'è. Dunque ci chiediamo, ritornando al punto di partenza, a cosa sono serviti il referendum e le innumerevoli sedute dei vari consigli comunali per assecondare le richieste dei cittadini e le trasferte a Palermo e i soldi spesi? Rimaniamo senza parole. È come se nel calcio, a modo di esempio, dove aveva vinto tante partite si giungesse alla finale per poi sentirsi dire il regolamento è cambiato. È tutto nullo. Avete giocato solo per passatempo. Per Maria Ferrera di Reset 4.0, bocciando i disegni di legge presentati dal governo centrale che avevano lo scopo di ridefinire i confini delle province, si ammette di conseguenza e senza nessun pudore che la volontà popolare decretata in una calda giornata d'estate, era il 13 luglio del 2014, vale assolutamente nulla. Si tratta di una umidazione per il popolo gelese che tanto ha fatto e che ci ha creduto fino alla fine. Questa è un'ulteriore occasione mancata per quella politica e per quei parlamentari che dovrebbero avere a cuore il mandato di rappresentanza che gli è stato dato.